Lui gareggia per l'Atletica Casoni-Nocello, un'ora, 5 minuti e 7 secondi, Yassin El-Fataui. Yassin El-Fataui in second place, in one hour and five minutes. Premia l'assessore dello sport, Alberto Bozza. And the brightest team by the assessor of the sport of Verona, Mr. Alberto Bozza. Primo classificato per l'Italia, Lui gareggia per la Balli, per la Masche, l'F1,4 e 52, Xavier Xavier. And the first place goes to Xavier Xavier, one hour and four minutes. Premia per Celsana, l'administratore delegato, Carlotta Ceschi Di Martino e il sindaco Flavio. Grande festa, grande festa via Verona, ecco lì il voglio tutto italiano. Una gara nella gara, tre successi, uno soprattutto il sorpasso di Masche, il doppio record della gara al 20.000, è qui, il voglio italiano. Bene, bene, bene. Allora, c'è Thomas Di Domenico che sta attendendo i suoi genitori a fianco al voglio delle preghiazioni. Intanto volevo ringraziare tutte le autorità là in fondo, siamo contenti di rivedere, mi permetto di rivedersi a Fabio che Alberto perché sono arrivati insieme a me. Eh, va bene, va bene, va bene, va bene. Ah ecco, grazie mille davvero, grazie mille, una grande festa, una grande festa. E questo signori è l'amministrazione e il GSM vicino al mondo dei codisti ma molto legato alla città di Verona. We thank the city of Verona, the major, the assessor of the sports section. They gave a great contribution to make possible this important competition. The stand edition of James Sun, Romeo and Juliet, Half Marathon. One of the three best Half Marathon in Italy. Gold Label, after Rome and Milan, we have three gold labels for the Half Marathon. E se tanto Max Fontani ci può sentire, può venire qua con noi, lo ringraziamo. Abbiamo riconoscimento a lui, abbiamo le previsioni degli ufficiali di, probabilmente, altre società, quindi le società più numerose, ma vi ricordiamo, categoria Master e squadre alle 14. Sport team and Master Strike Award, let's try at 2 o'clock in the afternoon. Per cortesia il rappresentante del team, NKM Sport, le fregnazioni, grazie. Gariborio, gnocze! Gariborio, gnocze! Gariborio! 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 e intanto prosegue, prosegue l'arrivo, la diretta streaming anche, guardate quanta gente, siamo a 2 ore, 4 minuti e 30 secondi, abbiamo ancora una, diciamo 5 minuti per la previazione Allora, il vivo, Thomas di Domenico sta attendendo i genitori, quindi i genitori di Thomas di Domenico, sono proprio qua dietro alle premiazioni, quindi al palco delle premiazioni, mi sta attendendo i genitori, mi raccomando, ti sta aspettando, è lei al suo, tranquillo, non c'è problemi, però mi raccomando, ho poi la mamma vicino, quindi vi aspettiamo, anche noi di aggiungamento, siamo quasi pronti